il teaser ufficiale del capitolo 3 è appena stato liccato oh my god ragazzi sembra quasi una barzelletta ma una manciata di minuti dall'upload del mio ultimo video news dopo una vita che non ne facevo uno è arrivato direttamente dalla polonia un video che è ovviamente quello ufficiale che va a riprendere e va a spiegare cosa troveremo nel capitolo 3 di fortnite quindi se non volete spoiler fermatevi qui ragazzi lasciate il like però se invece non ve ne frega e volete vederlo insieme a me lo andiamo a vedere per la prima volta assieme ci spostiamo intanto sulla visuale un pochettino migliore e io direi di metterci comodi anzi sapete che cosa facciamo togliamo questo spostiamo la webcam un pochettino più in alto così non dà fastidio e andiamo a vedere il teaser o meglio il trailer del capitolo 3 innanzitutto già qua vedo gente intorno a un campfire con delle skin che io non ho mai visto dura un minuto e 43 aspetta 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 e comincia così porca miseria allora questo sembra questo sembra il il castello che c'è vicino davanti a cala credente e ci sono delle piccole isolette con dei mini avamposti what quella là in fondo potrebbe essere l'isola di spawn guarda qui guarda qui guarda questa è la nuova mappa questa è la nuova mappa c'è una build gigante che sembra un palazzo della fox news adesso mi viene in mente così ci sono un sacco di arcipelaghi guarda qui la zona innevata what torna la neve io non so neanche cosa dire what sono due mappe raga c'è una mappa sopra c'è una mappa sotto guardate questa immagine what fortnite rosal 3 of roshan non so anche il deserto c'è anche il deserto guarda qui guarda qui questa è l'immagine della nuova mappa vista dal drone deserto neve erba mi piace un sacco già vista così no hanno rimesso anche la p nuovi modi di distruzione delle armi questa è un'altra location con dei tronchi e una specie di stile western non lo so mi sembra boscaiolo western what nuovi punti esperienza ma nuove skin nuove skin ma queste non sono niente di eccezionale dai si sono due skin ma niente di che vediamo queste c'è la signorina a destra che sembra che ha fatto la maschera di cera non si capisce c'è il signore con i capelli rosa che non c'ha un'idea e la ragazza frontale forse è l'unica delle skin che si salva spiderman con due varianti la variante nera e sotto di me la variante bianca what spiderman o queste cosa cacchio sono ma sono nuove armi ma sono nuove armi guarda questa è una specie di smg come quella come quella che già abbiamo visto su altri giochi la scivolata te l'ho detto che la mettevano dentro guarda qui no 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 piano 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 hanno introdotto la scivolata nel play nei modi di play del gioco e lo avevamo già vista nella pace 18 punto qualcosa e wow e questo cosa cacchio sta lanciando c'è una tenda stash item slot 1 hunter bold action sniper leggendario il fucile da cecchino ma te lo vai a prendere così proprio no guarda il mirino guarda il mirino e questo ma ma è una era una fontana era una fontana di slurp portatile aboliranno 100 100 le splash ma che figata c'è di nuovo un lama che c'ha una corona con dei lama ok non sappiamo cosa sia questa è la questa questa qui è la location che c'era nel capitolo 1 quella in alto a destra diamine in questo momento sono troppo eccitato nel vedere il trailer non mi viene il nome ve la ricordate quella tutto a tema a maia robe del genere guardate bello guarda quante location nuove è tutto nuovo è tutto nuovo e c'è una statua gigante centrale guarda qua ma è tutto completamente nuovo oh le ragnatele di spider il daily bugle guardate oh porca miseria ci sono pure i dinosauri le paleoliche i dinosauri what ma è tornato ma wow pass battaglia con spider man ma il visitatore lo scienziato era quello se guarda qua guarda qua no vabbè ma di che cosa stiamo parlando ma di che eccola la mappa ragazzi di che cosa stiamo parlando wow la nuova mappa incredibile fortnite capitolo 3 oh my god oh ragazzi ditemi qua sotto come vi sembra questo trailer del capitolo 3 della nuova mappa io non vedo l'ora di vederlo di giocarlo ma soprattutto di vivere con voi questa sera sulla piattaforma viola in live come sempre l'evento insieme ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.